L'RT in Abruzzo scende ancora e alla vigilia delle decisioni della cabina di regia arriva a toccare quota 0.8 mentre a livello nazionale si scende poco sotto l'1. Dati regionali insomma da zona gialla che però per effetto del combinato disposto delle restrizioni in vigore durante le festività pasquali dove l'intera Italia sarà zona rossa e del nuovo DPCM a regime dal 7 di aprile non sarà decretata per nessuna regione italiana. Dunque per l'Abruzzo tutto fermo in zona arancione almeno fino a fine aprile quando si spera che il progresso della campagna vaccinale, ieri in Italia toccate le 300.000 dosi somministrate e la discesa della curva dei contagi possano, come lo scorso anno, garantire un'estate più serena. Le misure restrittive, le attenzioni messe in atto fino ad oggi sono state valide e importanti. Oltretutto questa chiusura che avremo di tre giorni di zona rossa così come tutta l'Italia servirà ancora per consolidare questi dati e questi risultati. È vero che nella nostra regione ci sono alcune zone invece in cui si stanno evidenziando dei focolai, in cui sono ancora numerosi positivi per quanto riguarda le varianti. Andremo a monitorare, daremo le inducazioni di essere ancora più precisi, ancora più con interventi mirati di screening e soprattutto di tamponi in quelle zone. Certo, per le categorie più penalizzate come la ristorazione ad esempio, l'aprile arancio-rosso è l'ennesimo duro colpo che arriva dopo mesi di passione, per usare una metafora pasquale, in cui l'Abruzzo da ottobre ad oggi è stato tra le regioni con il minor numero di giorni in zona gialla.